Io partirei dalla timidezza e ti mostrerei una foto, se è possibile. Ecco, questa è la foto della prima seduta di incisione di Elvis Presley con Sam Phillips ai Sun Studios di Melfis. È una storia che parla di timidezza, perché Elvis arriva lì, Sam Phillips, che poi scoprirà Carl Perkins, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, gli dice fammi sentire qualcosa. Ma lui, Elvis, è bloccato dalla timidezza. A un certo punto Sam Phillips lo ferma e gli dice senti caro, va bene tutto, ma adesso mi fai sentire quello che vuoi cantare veramente. E lì nasce il mito di Elvis. Ecco, ti chiedo questo, che cosa si prova quando devi metterti alla prova sul palco? Cosa pensi prima di salire sul palco? Ti ha mai fatto paura oppure no? No, c'è molta impazienza. Non vedo l'ora, il momento più lungo in genere della giornata quando devo cantare, quando mi dicono si inizia alle 9 e mezza e io sono lì alle 9 e 28 che scalpito e poi dicono guarda deve entrare, è successa sta cosa, c'è un cavo da riparare, iniziamo alle 10 e meno 20, oppure c'è un altro tipo di imprevisto. Quindi la prima sensazione è impazienza. Non c'è ansia, credo di sapere governare la situazione, c'è più ansia quando gioco a pallone per esempio. Primo perché la vita mi ha spiegato bene che fondamentalmente è meglio per me cantare che giocare a pallone. E poi perché sei legato all'imponderabile, sei legato a una serie di fattori. Non ultimo il fatto che il tuo cervello dà un comando impreciso al piede, cioè tu dici devo mettere il pallone là, il tuo cervello dà il comando giusto, qualcosa si inceppa e invece che metterlo là lo metti due metri più a sinistra o più a destra. Per cui non c'è ansia da questo punto di vista, c'è voglia di cominciare.